Stai per entrare in un luogo che non c'era, lascia fuori tutto quello che ti pesa, entra solo tu, ti aspettano cinque mondi tra bellezza e benessere. E' un'esperienza fusion che coinvolge i cinque sensi. L'emozione del trattamento incontra l'intensità del risultato con i rituali polisensoriali di Physiosphere Face. I colori, le texture e i profumi avvolgono la mente. Su viso e corpo solo tocchi gratificanti, con salviette calde, pennelli di seta, spazzoline di fibra naturale. Grazie per la visione! Tra passato e futuro, un'arte antica per ritrovare il contatto con il corpo. Fagottini di riso, pietra lavica e pennelli di seta. La carezza di mani esperte che ti avvolgono e non ti abbandonano mai. Un piacere esaltato dalle texture preziose del mondo holos e dalla ritualità di gesti che infondono sensazioni profonde. Alta tecnologia, ma delicata come una carezza. Le stimolazioni high-tech si stemperano in un benessere globale che dà luce al viso e rimodella la silhouette. Nel rituale emozionale, una pausa di piacere per i sensi e il corpo, in un percorso che fonde bellezza e armonia. Fino al massaggio delle mani e dei piedi, con sacchettini di sabbia caldi. La pelle si nutre di preziosi ingredienti naturali. Un inebriante, immersione aromatica che avvolge i sensi. Una sensazione per sedurre il corpo e la mente. Con un mix di fragranze che sfrutta le proprietà straordinarie degli oli essenziali. Preziosi aromi, distillati da piante, fiori, cortecce e resine, creano una predisposizione dell'anima. Con un mix di fragranze che sfrutta le proprietà straordinarie delle mani e dei piedi, con un mix di fragranze che sfrutta le proprietà straordinarie delle mani e dei piedi. L'acqua come fonte di benessere. Evocata dalla lufa per esfoliare, dalle conchiglie per massaggiare. La fresca cascata di principi attivi termali di Contessa Matelda e la purezza marina di Talmer. Nausicaa è la nuova sorgente d'acqua di bellezza, con le luci, i vapori e le dolci fragranze che nebulizza nell'aria e sulla pelle. Che importa della fretta di cui sono fatti i giorni, ora sei qui. Grazie. Grazie. Grazie.